Cosa vuol dire avere la colite ulcerosa? Qual è l'impatto sulla vita dei malati? Come condiziona la loro vita di tutti i giorni? E cosa vuol dire avere delle nuove possibilità di cura che sono state presentate oggi qui a Milano nel corso di un evento con la stampa? Noi ne parliamo con Salvo Leone, direttore generale di Amici Italia e chairman della European Federation of Crohn and Ulcerative Colitis Associations. Salvo, senza innanzitutto cosa vuol dire vivere con la colite ulcerosa. Qual è l'impatto di questa patologia sulla qualità di vita dei malati insomma sulla vita di tutti i giorni? La colite ulcerosa è una malattia cronica innanzitutto alla quale non si guarisce e che è caratterizzata da fasi di attività e fasi di non attività. Motivo per il quale adesso dovessi fare una definizione di che cosa è questa malattia direi è come fare un viaggio con un amico molto antipatico sperando che dorma sempre. No, è una malattia caratterizzata da una disabilità non visibile con sintomi difficili da raccontare per cui il paziente molte volte tende ad isolarsi dal contesto che lo circonda e quando parlo di contesto non mi riferisco soltanto alle amicizie ma mi riferisco anche ad un problema lavorativo. Abbiamo condotto un'indagine nel 2023 che si chiamava Better nel quale è stato riportato su un campione di 1350 persone e di queste il 70% in lavorativa, 20% di queste hanno riportato fenomeni di discriminazione in ambito lavorativo. Se ti salvo, prima di parlare di farmaci che è un po' il tema dell'incontro di oggi volevo chiederti qual è la possibilità di assistenza che hanno i malati, quindi se l'accesso ai centri è relativamente facile, se la diagnosi arriva nei tempi rapidi come dovrebbe essere sempre. Insomma la presa in carico dei pazienti è a livello giusto come ci si immagina che sia oppure ci sono delle difficoltà? Diciamo che da questo punto di vista rispetto alla malattia di corona con il truceroso è molto più facile di diagnosticare, per cui l'arrivo alla diagnosi che poi l'aspetto critico che crea un discrimine tra avere una malattia aggressiva e no è molto ridotto, quindi l'accesso ai farmaci possiamo dire che è abbastanza garantito, se mi dovessi concentrare e dire che c'è ancora da fare della roba direi sicuramente c'è tanto da fare perché probabilmente il paziente spesso non viene valutato dal punto di vista nutrizionale, c'è un problema di mancanza di un supporto psicologico che molte volte viene richiesto al malato e che nei centri di cura in alcuni casi non viene garantito. Senti una nota penso positiva è quella delle terapie che negli ultimi anni si sono molto evolute, oggi siamo qui a Milano per la presentazione di un nuovo farmaco con delle caratteristiche farmacologiche interessanti, ecco voglio sapere da te l'arrivo di questi nuovi farmaci che prospettive di cura apre? Intanto un nuovo farmaco è sempre una speranza in più per un paziente perché molte volte quando fallisce un trattamento c'è sempre la domanda adesso che facciamo, per cui il fatto di sapere che i medici hanno tantissime molecole a disposizione, un portfolio di prodotti che spaziano in tutte le direzioni è sicuramente motivo di speranza per i malati, quindi direi che sui nuovi farmaci mi concentrerei molto sulla modalità di erogazione perché quello costituisce un passaggio in avanti rispetto a quello che è controllare soltanto l'organo, ma cercare di comprendere il farmaco non più come un prodotto ma come un'esperienza che si deve avere ad una persona che lo sta assumendo.